Sì, sto per dare una festa, volete partecipare anche voi? Voi direte, ma che cosa c'entra un palloncino di festa con il sax? In realtà c'entra qualcosa e oggi ti faccio vedere perché. Se io prendo il mio palloncino e lo metto sul bocchino in questa maniera Così. Cosa succede? Proviamo a soffiare. Ops, bisogna soffiare un bel po' forte, quindi proviamo. Come vedi ci vuole una grande pressione di aria per fare questo giochetto qui. Ok? Quindi a che cosa serve questo esercizio? Quando siete un po' bloccati al mattino, siete dei fumatori che non vogliono smettere, siete un po' sempre bloccati con la tossetta, eccetera. Oppure siete un po' raffreddati, avete bisogno di aumentare un pochettino la forza della vostra pressione prima di incominciare a suonare il sax e questo può essere un ottimo esercizietto anche divertente. I palloncini si trovano ovunque, costano praticamente niente e potete esercitarvi tranquillamente. Spero di essere stata utile e come sempre ti do appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao!